Dino Maglia ha confermato per la terza volta sindaco di San Martino del Lago. Grazie, io voglio ringraziare i miei elettori, tutti i cittadini, i miei sostenitori candidati sindaci, candidati consiglieri. Mi ha dato una mano e questo completiamo avanti il programma elettorale, vuol dire che in questi dieci anni l'amministrazione ha lavorato bene. Io dico che se si vuole diventare sindaco bisogna fare una campagna per il paese, non contro il paese come qualcuno ha fatto. Però le porte dell'amministrazione comunale, le porte della maggioranza sono aperte anche alla minoranza, perché per dare succedimenti, per dare una miglioria al paese. Grazie a tutti.